clamoroso clamoroso il Monza sbanca a San Siro bottino pieno bottino pieno caldirola eroe caldirola eroe il Monza sbanca a San Siro colpaccio clamoroso vince 1-0 mancano in realtà ancora nel film perché siamo al 94esimo mancano ultimo minuto veramente guardiamo gli ultimi minuti per il momento il Monza sta facendo un colpaccio clamoroso ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapaz siamo qui ragazzi un nuovo video siamo qui a Giapaz commentare il post partita di Inter-Monza 0-1 la decide caldirola l'Inter inguardabile un Inter l'apprezzazione ignobile dei nerazzurri veramente partita imbarazzante tra Lukaku che si mangia dei gol clamorosi nel primo tempo nel secondo tempo Lautaro altrettanto si mangia un altro gol clamoroso il Monza che comunque ha fatto una partita ordinata pulita un muro davanti alla difesa tra Izzo e Caldirola hanno fatto praticamente una diga davanti alla difesa complimenti Shabu al Monza che merita la posizione in quale sta in classifica attenzione mamma mia grossa occasione dell'Inter ha fatto nel primo tempo è stato un miracolo di Gregorio su Correa però per il momento ancora la decide il gol di Caldirola vi ricordo di lasciare un mi piace un commento qui sotto se siete nuovi ragazzi mi raccomando iscrivetevi al canale per non perdermi tutti i miei video attivate la campana per rimanere aggiornata tutta quanta la settimana recuperate il post partita del Napoli e gli altri video che trovate qua sotto nelle schede a fine video eccola arrivato il triplice Fistio Galliani e Berlusconi che festeggiano perché fanno il colpaccio il Monza vince 1-0 a Santino è finito proprio adesso allo stadio Giuseppe Meazza vince 1-0 Caldirola eroi del Monza e poi Caldirola ragazzi è una riserva non gioca mai ogni volta che gioca segna sempre cioè poi soprattutto contro le big per un giocatore che contro le big va sempre a segno Caldirola non è la prima volta anche ai tempi del Benevento veramente assurdo questo è il bello del calcio ragazzi è il bello anche di vedere una squadra che sta in semifinale di Champions in quartifinali Champions tra l'altro che ha già vinto con il Benfica all'andata quindi dovrebbe essere motivata nel fare bene e invece fa l'opposto perde in casa col Monza cazzo tu clamoroso clamoroso come le martingale zompano tutte le settimane in Italia tra il Napoli che pareggia 0-0 e il Mila che pareggia 1-1 l'Inter ormai l'Inter che perde addirittura non ti può più giocare a martingale è veramente scandaloso io sono contento perché queste cose nel calcio sono veramente belle quando la squadra diciamo che è sottovalutata perché il mondo è sempre stata sottovalutata da tutti perché è partita male in campionato poi con il cambio allenatore con l'arrivo del nuovo mister palladino c'è stato un cambiamento completo da parte del Monza l'Inter dall'altro canto ragazzi inzaghi non so perché ancora la panchina calda nell'Inter non so perché ancora stai seduto in panchina non capisco perché non l'hanno esonerato o dove non esonerà a gennaio secondo me è assurdo spiace spiace ragazzi purtroppo Caldirolla ci segna sempre spiace spiace mamma mia assurdo assurdo comunque le occasioni l'Inter come al solito crea veramente una mole di occasioni veramente tante perché crea anche oggi 26 occasioni 26 tiri di cui sei nello specchio veramente si mangia l'impossibile l'Inter il Monza che alla fine fa 7 tiri 2 in porta tra l'altro 1 è il gol di Caldirolla su calcio d'angolo pallone di Sciuria e mezzo Caldirolla da solo saltato da solo dentro l'area gol del 1-0 gli imbroglia praticamente la partita e a rivederci e buonanotte suonatori veramente fatemi sapere la vostra io non so che dico su questa Inter veramente non me l'aspettavo perché dopo l'Inter viene da un filotto di partite consecutive bruttissimo poi ho pensato ha vinto contro il Benfica col Monza in casa mi auguro che vinca tra l'altro ho pronosticato 3-1 dell'Inter a parte tu sei una squadra che devi riconfermarti in Champions League e lascia Lautaro Martinez in panchina per 65 minuti è una roba veramente Inzaghi gli devono dal tapiro d'oro a strisciare la notizia veramente complimenti Inzaghi te meriti tutto quanto il tapiro d'oro è tuo è tuo Inzaghi il tapiro d'oro è tuo spiace spiace scusate risate però io non ce l'ho con l'Inter non ce l'ho con l'Inter perché non so uno che però mi fa ride Inzaghi ogni volta quando guardo queste prestazioni e penso che allena la panchina è vero Simone Inzaghi stia parida perché è da sempre così poi chissà quante scuse si inventerà oggi direi che il campo era pieno dei grandi non lo so si inventerà un'altra delle sue cavolate comunque fatemi sapere da vostra da Già penso è tutto e noi come al solito un prossimo video ragazzi sempre comunque forza il calcio dove arriverà l'Inter scrivetemi qua sotto in un commento ovviamente scrivetemi pure chi è stato il peggiore in campo secondo me Lukaku ciao raga vamos iscrivetevi bella